bene cari amici scusate del piccolo ritardo spero che che tutti mi vediate anzi vorrei pregherei i miei serviti amici la monica sergio di darmi un feedback se mi sentite regolarmente e evitiamo come vedete dal mio ambulatorio di milano ho finito proprio rocambolescamente le visite pochi minuti fa e poi mi sono precipitato dentro in questa diretta perché ci tenevo a ci tenevo a non saltare questo impegno perché nonostante nonostante se estate così via ci tengo che ci incontriamo che abbiamo questo momento bello in cui comunichiamo dialoghiamo insieme eccetera eccetera questa sera era in programma in realtà di parlare di andare avanti con il nostro discorso solamente no e volevo fare tutte le le i riflessi delle emozioni psichiche sul corpo poi ho cambiato idea perché ho pensato insomma che con questo tempo abbiamo 40 gradi questa umidità pazzesca se parliamo anche delle delle riflessi delle emozioni sul sul nostro corpo chiaramente andiamo invece è meglio parlare di qualcosa di più di più piacevole più piacevole cos'è che c'è di più piacevole più piacevole c'è il fatto che tra poco moltissimi noi vanno in vacanza quelli che non vanno in vacanza stanno a casa ma si godono un po di riposo il lavoro inevitabilmente un po diminuisce a parte a parte alcune persone quindi entriamo in un momento bello entriamo in agosto che è la parte insomma piacevole dell'estate e quindi è meglio che parliamo dico di qualcosa e parliamo invece dei problemi che possiamo avere in agosto può essere i problemi di agosto i problemi di agosto sono intanto può essere anche la scelta di quale sia la nostra vacanza migliore no cioè non è che tante volte abbiamo parlato delle costituzioni no non è che per esempio tutti stiamo bene al mare no ci sono per esempio ad alcune persone fa molto bene il mare che è attivante lo iodio fa molto bene per il sistema immunitario però per esempio se c'è un virus se c'è non solo uno ha avuto la monocleosi o un virus il mare non va tanto bene se la montagna ha un effetto rilassante però se uno ha un'ipertensione arteriosa andare troppo alto non va bene e quindi intermedio invece c'è il lago e quindi anche la vacanza andrebbe scelta secondo me in relazione alla propria costituzione alcune volte può essere troppo dico attivante il mare tranquillizzante la montagna poi ci sono tutte le quest'anno non ci saranno i grandi viaggi all'estero quindi non dovremmo preoccuparci delle malattie esotiche però lo stesso dobbiamo preoccuparci delle delle zanzare che essendoci questo riscaldamento del pianeta ma che possono portare del trasmette dei virus che le nostre vecchie zanzare non trasmettevano quindi vi ricordo che c'è un rimedio omeopatico molto banale si chiama ledon palustre 200 si prende un tubetto intero una volta solo di questo lo prende una volta a settimana e c'è una certa copertura per discorso zanzare durante l'estate l'altra cosa che succede c'è tutto un la tiroide che viene attivata quindi va ridotto tante volte anche il farmaco per la tiroide altrimenti c'è il rischio che andiamo in sovra dosaggio la tiroide sapete che la la ghiandola diremo del che crea il calore nel nostro corpo che produce il calore quindi quando c'è questo caldo qua la tiroide è a riposo non deve tanto essere sostenuta e stimolata quindi ricordiamoci che le medicine ma anche gli integratori ma anche tutto deve essere un po adattato al momento dell'anno quindi in questo periodo dell'anno la pressione per esempio tende a calare lo dovrà adattare i farmaci i farmaci diremo antipertensivi e dovrà adattare i farmaci tiroidei naturalmente quindi c'è tutto ecco la stagionalità deve essere rispettata durante questo periodo per esempio è quello che secondo i cinesi la medicina cinese corrisponde alla loggia alla loggia del fuoco corrisponde quindi alla loggia del fuoco corrisponde al meridiano del cuore e in questo momento è il periodo in cui appunto il cuore può essere anche sovrastimolato e possono esserci più facilmente momenti anche di tachicardia di aritmia eccetera eccetera quindi teniamo conto di questo di questi aspetti ecco quindi premesso questo volevo sentire cosa dicono i miei amici vedo che c'è Leandro siamo già in 37 nonostante questa giornata la fosa dell'estate Giuseppe piede il nostro amico Pietro Piero Capelli Antonella Luca la Simona che che ho appena appena visto che dice che la rigenera il mare ovviamente perché la Simona ha bisogno di energia ha bisogno di rigenerazione ha bisogno di stimolo e e quindi il mare è rigenerazione è stimolante da vita ed energia poi c'è anche persone che hanno un eccesso di di energia e quindi devono devo andare in un ambiente in un ambiente lacustre l'ambiente lacustre è tranquillizzante però per esempio può essere anche troppo tranquillizzante e l'ambiente montano invece è un ambiente che ha è ancora più più sedativo comunque però il ledo va benissimo anche per i bambini si prende sempre un tubetto tutto intero e ha un effetto molto molto importante eh ciao Cristina ciao Agata eh ecco poi ci ritroviamo appunto tutti insieme poi l'altro problema che c'è durante l'estate è il problema delle vene ricordiamoci che tutti tendiamo in estate avere un po' di di accumulo diremmo a livello del eh le vene si dilatano quindi esce un po' di liquido e ci tendiamo soprattutto se stiamo molto in piedi un'altra giornata ad avere le gambe un po' gonfie la sera e allora ci sono dei tantissimi rimedi naturali per questo e quello che che io indico molto spesso in questo periodo è il rusco il rusco aculeatus è una pianta di cui ho fatto anche un video molto interessante che va molto bene perché da una parte cerca di ha un effetto tonico sulle vene dall'altra alza un po' la pressione e la pressione sappiamo che durante l'estate cala ovvio che il rusco non lo non lo do a chi ha già la pressione alta adesso per esempio i pazienti che ho appena visto eh pochi minuti fa c'è una signora che che aveva la pressione abbastanza alta e non le ho dato ovviamente né rusco né altre cose perché non voglio stringendo le vene portare in circolo tanto tanto liquido e e creare un aumento della pressione ecco come fare per aumentare dice la Cristina eh questo caldo umido perché la pressione è bassa appunto la pressione è bassa io ho fatto un prodotto molto interessante molto pratico molto immediato che si chiama ipoton control uno prende un sorso di quello e tac e va benissimo oppure come dicevo adesso prendendo il rusco che mi fa bene per le vene mi fa bene anche per la pressione quindi questo potrebbe essere un un ciao cara Monica ecco c'è anche la nostra eh la nostra Maria Elvega da El Salvador che è pronta e eh si unisce a noi in El Salvador eh è mattino lì non hanno tutto il caldo che abbiamo noi perché sono fortunatamente sulla eh sull'oceano pacifico e quindi stanno benissimo docce con acqua fredda sono salutari soprattutto è utile farsi delle docciature delle gambe non non si uno può farci anche per l'acqua fredda tanto il corpo può farci delle spugnature delle docciature delle gambe che appunto hanno in freddo una effetti contrazione sui eh sulle sulle vene sulle arterie quindi fanno molto molto bene naturalmente no e quindi eh certamente eh certamente utile ecco quindi eh dicevo che eh naturalmente anche la dopo una lunga camminata di nove chilometri è normale avere il battito cardiaco sì ecco tieni conto che nove chilometri sotto il sole cara Cristina bisogna stare un po' attenti però è normale che il cuore che come ho detto all'inizio è nel nel momento suo di eh di difficoltà diciamo in un certo senso no in questo periodo dell'anno deve essere aiutato quindi se tu fai una una lunga camminata sotto il sole sarebbe meglio che tu prendessi della carnitina o del o del coesiva Q10 così via per aiutare il cuore che fa effettivamente più fatica cioè il cuore ricordiamoci una cosa molto importante il cuore eh risente sia del del freddo molto intenso sia del caldo molto intenso il freddo molto intenso perché? Perché eh crea una contrazione sulle nostre arterie e aumenta bruscamente la pressione ma anche del caldo molto intenso perché quello determina degli degli eh delle diminuzioni molto brusche la pressione e allora noi dovremmo tenere conto tenere mai in tasca oppure così un'altra ecco vi do tante piccole gemme di di pratiche no? Come noi tagliamo in tasca questo questo prodotto delle zanzare questo led un palustre 200 tenere in tasca anche un tubetto di aconitum 10.000 xmk perché se prendiamo un colpo di sole prendiamo tac subito questo tubetto di terra e questo ci preserva dei danni del colpo di sole che sono non non differenti quindi bisogna stare eh eh molto attenti quindi stiamo stiamo all'occhio insomma anche con eh sì camminiamo ci fa bene camminare però eh ovviamente è quella cosa che ho detto tante volte eh nella persona normale che non sia una persona molto giovane atletica di solo diverso ma c'è questo limite per cui i i i sette otto chilometri fanno bene durante il giorno certamente non sotto il sole coccente ma se invece se sette otto chilometri diventano quindici molto spesso sono affaticanti cosa che non vuol dire che non bisogna farli bisogna tenere conto che sono affaticanti e allora bisogna prendere o prendiamo il 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 rimedio che vi ho detto tante volte che il fito air support o prendiamo la carnitina o prendiamo il quale zina qui 10 dobbiamo aiutare non termino questo discorso eh il nome del preparato per il caldo è aconitum xmk un tubetto intero per il colpo di sole quindi bene siamo già in 53 sono contento che anche al 31 di luglio riusciamo a coagulare il nostro il nostro gruppo ecco marie che al tropico eh al tropico è sempre estate si sta benissimo sono in una bellissima ambiente marino e quindi beati loro purtroppo hanno il virus che gironzola no tra breve insomma il virus andrà via mio marito Giulia è un po' iperteso prende l'ippocastano per gli emorroidi certamente puoi continuare perché come ho detto prima il rusco crea ipertensione che benefico per però l'ippocastano invece l'ippocastano si dà molto molto bene proprio a chi ha problemi di fegato fegato che determina l'ingrossamento delle emorroidi contrai le emorroidi fa bene per le vene fa bene anche durante ecco ricordiamoci che noi parliamo delle vene ma le emorroidi sono anche queste vene e anche quelle peggiorano col caldo soprattutto che uno è tanto seduto allora uno sta tanto seduto e col caldo peggiorano gli emorroidi uno sta tanto in piedi e col caldo peggiorano le vene e allora avremo questa scelta tra l'ippocastano per gli emorroidi e il rusco un'alternativa al rusco per chi ha problemi di vene e ha la pressione alta è l'amamelis l'amamelis è un'altra pianta io uso molto spesso l'amamelis o macol che è un rimedio oiopatica e uno prende 15 gocce mattina e sera di questo che è molto buono eh bene un saluto a tutti da eh da mirta eh da viterbo benissimo eh il pungitopo ecco il pungitopo è il il rusco il ruscus aculeatus non è altro che il pungitopo vi ricordo l'altro quello che diremo stasera che ci sono due riviste che ho fatto dedicate all'estate una è del duemila e quindici che è una bella rivistina dedicata a tutti i problemi dell'estate e poi ehm un'altra rivista che invece è uscita proprio eh qualche qualche mese fa sempre di scienza natura che è un bel volumetto dedicato a tutti i problemi quindi tante cose che che dico sono approfondite sempre nella rivista voi potete sempre richiederle a scienza natura per avere o la copia online o la copia eh cartacea quindi quindi bene quando eh Maria dice che quando sto in un posto che fa tanto caldo mi viene una dolenzia terribile una debolezza terribile e certamente perché crolla la pressione capiti Maria allora una cosa per esempio che fa bene col caldo è il caffè ecco il caffè un bel caffè eh di fatti nel in Messico e sulla America si bevano degli ultimi caffè che il caffè è una pianta ehm delle regioni delle regioni calde e è sempre la natura crea la sostanza giusta nel porto giusto il caffè eh uno o due caffè al giorno durante il caldo che hanno un po' di di tonificazione sapete che il caffè ha un effetto di di innalzamento della pressione oltre che ti far sentire meno fatica al cervello questa è la stagione giusta per prendersi anche eh un buon caffè capito quindi questo chiaramente non bisogna esagerare però uno o due caffè al giorno fanno certamente bene al cuore ecco eh il cuore tende in questo periodo a non avere gli spasmi arteriosi che ci sono durante il periodo freddo e quindi questa è una cosa no tende ad avere una sorta di insufficienza di debolezza e qualcosa che lo lo stimola è certamente molto eh buono bevo moltissime acque eh ecco allora eh una cosa che discutevo oggi proprio con una con una paziente ho visto eh o ieri oggi non mi ricordo eh era che eh bisogna vedere anche che acqua noi beviamo durante l'estate non non è giusto bere delle acque diuretiche povere di sodio e così via è giusto bere delle acque anche ricche di minerali perché noi perdiamo minerali durante quella sudorazione perdiamo sodio perdiamo potassio così via lo può essere positivo se uno per esempio ha la pressione alta riduce il sodio perfetto però in certi casi come questa paziente che ho visto che ho visto ieri appunto aveva il sodio molto basso e quindi il va dato un'acqua ricca di minerali quindi non va bene la 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 lauretana che bevo io per esempio no eh che è un'acqua eh povera di sodio o la Sant'Anna che è un'acqua povera di sodio va bene la San Gemini l'acqua ricca di minerali che remineralizza in questo periodo in cui tante volte invece bisogna integrare magari i magnesi il potassio cioè soprattutto se una persona eh suda molto quindi bisogna bere per non bere così a caso bere anche le cose giuste perché quando prendo una sostanza di alga spirulina mi viene eh una super un super mal di testa eh no perché l'alga spirulina eh in alcuni soggetti è troppo attivante quindi probabilmente la spirulina ti alza troppo la pressione e quindi probabilmente non va bene non è che che tutto va bene per tutti ogni persona deve trovarsi anche ogni sostanza che magari anche viene indicata viene consigliata al metico eccetera eccetera dopo deve essere testata su se stessi quindi ogni persona quindi l'alga la spirulina per esempio va molto bene in chi eh in chi è debole io la uso molte volte anche nella stanchezza cronica però questa stessa spirulina diremo eh può essere troppo attivante in alcune persone bene allora siamo in 66 siamo in tantissimi quindi avete qualche altra domanda relativa a all'estate quali sono i problemi che che si incontrano oltre a quelli che di cui abbiamo già parlato che in estate tra l'altro vi ricordo che la la nostra vitamina D è meglio sospenderla perché noi usciamo e col sole viene attivata la vitamina D endogena e quindi il corpo fabbrica lui la vitamina D durante l'estate è utile anche sospendere la vitamina K che prendevamo durante i veni insieme alla vitamina D perché la vitamina K potrebbe favorire una trombosi venosa queste vene che si dilatano che rallentano la circolazione tendono al posto in alcuni soggetti soprattutto anziani diventare un evento trombotico e quindi la vitamina K non la prende quindi capito che lì va tutto attivo quindi durante l'estate noi dovremmo prendere la vitamina A e non la vitamina D la vitamina A protegge la nostra retina dai raggi solari e quando io dico vitamina A intendo tutti la grande gamma vitamina A la solga ha per esempio la vitamina A pure si chiama vitamina A dry o poi c'è il betacarotene che prepara la pelle all'abbronzatura che quindi ci prepara proprio gli epiteri della pelle quindi se uno va al mare ma per 30 giorni prima si è dovuto prendere il betacarotene ma vitamina A vuol dire anche il licopene per esempio che è la sostanza specifica per proteggere la prostata e alcuni altri epiteri vuol dire l'uteina che è sempre vitamina A che protegge i nostri occhi dai raggi solari quindi tante volte la nostra retina viene danneggiata dai raggi solari quindi la vitamina A è comunque la vitamina dell'estate come la vitamina D e la vitamina D dell'inverno non è che dobbiamo prendere un errore gravissimo è quello di pensare che la stessa cura che faccio d'estate la faccio d'inverno no, ogni stagione io non a caso ho fatto quattro bellissimi librettini per la primavera, per l'estate, per l'autunno, per l'inverno perché ogni stagione ha le sue caratteristiche ogni stagione ha la sua costituzione che va in crisi in quella stagione per esempio in estate il sanguigno va in crisi perché c'è una esasperazione della sanguinicità in autunno il melanconico va in crisi perché già lui è melanconico il buio dell'autunno vada in crisi il melanconico naturalmente in inverno va in crisi il soggetto flemmatico che già tende ad avere dei grandi rallentamenti e della grande letargia e l'inverno ti manda ancora più in letargo e in primavera va in crisi invidiare che è già accelerato e quando lo accelera ancora di più va ancora più in crisi quindi capite ogni stagione manda in crisi una costituzione ogni stagione ha i suoi organi che soffrono di più ogni stagione ha le sue indicazioni quindi dobbiamo adattarci al cambio stagionale altrimenti se non ci piace questo discorso andiamo tutti a trovare la Mariel ai tropici ai tropici è sempre la stessa e soprattutto più che i tropici in realtà più ci avviciniamo all'equatore più abbiamo una equale temperatura e quindi più ci avviciniamo all'equatore più che i tropici abbiamo questa stabilità stagionale che non richiede questi adattamenti questi adattamenti dietetici terapeutici psichici eccetera noi che però viviamo nelle zone temperate dobbiamo invece adattarci a questi cambiamenti stagionali quindi ricordiamoci questo a me piace anche l'idea che ci siano questi cambiamenti mi ricordo quando andavo in Sud America ma mi piaceva l'idea che c'era sempre la stessa temperatura pioveva sempre alla stessa ora ed era sempre tutto uguale e anche questo stress diremmo che è determinato dal cambiamento continuo di temperatura stagionale è uno stress di attivazione è uno stress che rende il corpo più reattivo ed è rende anche tutto sommato la mente è una ginnastica per il corpo per le cellule e per la mente che tutto sommato fa bene sia per l'intelligenza oserei dire perché tutti ti attivi in questi cambiamenti sia per il fisico quindi direi che è meglio che rimaniamo qua oggi ho mangiato il fegato di bovino che ricco il fegato di bovino le hanno pazzesco quindi il fegato di bovino è in effetti ricco di vitamina di vitamina B12 vitamina A di ferro eccetera e molto spesso è quello che io indico quando io devo dare del ferro a qualcuno e quindi non gli do la bistecca gli do il fegato quindi benissimo e quindi è un'ottima idea la vitamina D dice Maria si attiva nel tropico anche se sì certo se tu vai Maria sul poggiolo si attiva se tu che stai chiuso in casa ovviamente no il succo di carota va benissimo che tiene il beta carotene teniamo conto che la carota però ogni sostanza dobbiamo sempre precisare qualcosa teniamo conto che la carota è molto zuccherina e quindi non va bene se c'è una tendenza diabetica per esempio e la carota tende un po' ad essere ingrassante però ricordiamoci anche che il beta carotene non può essere assunto dai fumatori chi fuma poi il beta carotene è proprio dannoso per il polmone del fumatore quindi c'è vedete sempre una io c'è proprio ho una parolina magica che è dipende quindi uno dice fa bene la carota io dico dipende fa bene il tuorlo d'uovo che contiene la luteina dipende perché se uno per esempio ha un problema alla colecisti no ecco quindi ogni cosa dipende capito quindi tutto va bene però dovete sempre porvi questa 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 parolina diremmo ecco anche un osteoporotico sospende la vitamina D certo anche l'osteoporotico non si può prendere tutto l'anno sempre la stessa roba l'osteoporotico magari tu prendi la vitamina D e la vitamina K durante l'estate magari l'osteoporosi migliorerà un pochettino però sei a rischio come dico la vitamina K e comunque espone a un rischio curativo eccessivo e poi non dobbiamo il nostro corpo dobbiamo anche come dico abituarlo a fare da solo cioè se tu mangi normalmente delle cose che contengono un po' di colesterolo il colesterolo viene poi trasformato dai raggi del sole in vitamina D noi dobbiamo cercare anche il nostro corpo poi è chiaro uno ha 100 anni come la vicevalore che oggi ha compiuto 100 anni e allora dovrebbe prendere la vitamina D la vitamina K e tutto il resto la persona normale dovrebbe prendere le cose alternandole mai prendere cose tutto l'anno sempre in qualsiasi situazione eccetera eccetera riguardo la tiroide che rallenta d'estate l'iperticontrol che mi ha consigliato mercoledì non è che mi rallenta troppo la tiroide l'iperticontrol non è che la tiroide rallenta d'estate la tiroide sta benone d'estate e quindi va modulare della tiroide d'estate va un po' frenata capito perché lei non c'è bisogno che lei lavori così tanto ma delle volte lavora qua quindi l'iperticontrol è certamente utile durante l'estate certamente Luigi il Carcadè cioè il Carcadè è una cosa meravigliosa perché sapete che il Carcadè è stato portato in Italia negli anni 30 dal Duce e quando ci sono state le sanzioni che l'Inghilterra apposta l'Italia non ci facevano più portare il tè dalla dice noi ne vi diamo più il tè perché voi avete invaso l'Etiopia noi il tè non ve lo diamo più e noi allora il Duce ha detto noi chi ce ne frega degli inglesi no la perfida albione no non ci dà il tè e noi ci prendiamo il Carcadè che veniva dalla Libia che quel tempo era italiano il Carcadè è una bevanda buonissima fa benissimo è ottimo per il cuore ed è ottimo ci sono le due piante per il cuore in ordine di ma ce ne sono tante ma in ordine di importanza c'è il biancospino la prima pianta importante per il cuore la seconda parte importante per il cuore è il Carcadè quindi c'è per esempio la specchia sol ma anche altre ditte fanno proprio dei buonissimi fiori di Carcadè che noi facciamo queste belle infusioni così rosse che fanno benissimo durante l'estate ecco allora qui Mario ci aspetta tutti appena finisce il virus che è imperverso prenderemo affitteremo noi siamo già in 73 riempiamo un aereo e andiamo tutti ai tropici creiamo facciamo una tutti a trovare la nostra Mario ai tropici ok allora Ferraresi buonasera dottore sono ipotiroideo come niente ipotiroideo prende le cose che normalmente la sua terapia per la tiroide però normalmente quel caldo è presumibile che debba ridurre le dosi come fa a accorgersene se avesse dell'aritmia dell'attacchicardia dell'insonnia vuol dire che la dose eccessiva allora deve ridurre un pochettino ok grazie Bartone mio marito beve molto ma ora quegli verticoli della vescica accistite ecco beh allora sai i diverticoli della vescica sono un po' si sfiammano prendendo dell'acqua dove metti dell'aceto quindi invece di dargli l'acqua normale due o tre volte al giorno quando prende il suo bicchiere d'acqua aggiunge un cucchiaio di aceto di mele e l'aceto disinfetta la vescica sostanzialmente quindi questo è molto importante Claudio un ex fumatore a circa 40 anni deve evitare e beh certo io direi che per estrema sicurezza chi ha già ha fumato e quindi ha questo probabilmente residui di fumo nei polmoni deve evitare il beta carotene quindi la vitamina A prende la vitamina A dry prende la luteina prendi un'altra cosa ma non devi prendere il beta carotene Mario vorrei mangiare il fegato di bovino Mario dice che deve essere di bovino che mangia solo erba qua non si trova direi che il bovino certamente il fegato filtra come sappiamo anche le tossine dell'alimentazione quindi sarebbe bene che prendere un bovino che che ha mangiato l'erba i bovini devono mangiare l'erba e quindi un animale sano però normalmente ci sono dei controlli veterinari molto attenti e viene controllato quello che arriva il mio corpo è freddo in alcune parti al tatto e altre parti di apertura normale quello sarà ma ci possono essere dei problemi di alterazione della microcircolazione quindi se tu hai dei punti del corpo che sono freddi dovresti prendere del ginkgo biloba certamente perché così attivi la microcircolazione certamente mia figlia ha la lingua con la patina bianca cosa significa la patina bianca della lingua significa che ci sono dei problemi a livello intestinale gastrico intestinale la nostra monica per esempio oltre a fornire dei meravigliosi gioielli e queste cose fornisce anche il pulisci lingua ecco gli indiani per esempio nella yurvedica tengono molto alla pulizia del corpo loro fanno questo panciacarma si puliscono il naso e tra le varie pulizie che andrebbero fatte al mattino alla sera oltre a lavarsi i denti bisognerebbe anche pulirsi la lingua e c'è questo bellissimo pulisci lingua in argento che è molto interessante quindi la lingua va pulita e poi va capito perché c'è la lingua sporca che è molto spesso dovuta a un problema di tipo gastroenterico la pigrizia influisce sulla caduta dei capelli beh insomma certamente la pigrizia non fa bene ecco e se uno si butta lì così si spiaggia sul letto certamente non è positivo però che influisca sui capelli questo non è invece provato quando bevante calda allora tu sai che i beduini che sono nel deserto lunghe periodi sul cammello uno non si vestono in modo che il corpo non perda troppi liquidi e poi bevono il tè caldo i beduini non bevono non hanno sul cammello il ghiacolo a parte che il ghiacolo si scioglierebbe le bevande calde sono una buona idea soprattutto il tè è una buona idea per lo caldo certamente non si può col caldo prendere una coca cola ghiacciata perché vai a vai a creare una congestione e crei veramente dei casini però dovremmo sempre ascoltare il nostro corpo tu desideri una cosa fredda che tipicamente per esempio chi desidera le cose fredde la possibilità miopatico dovrebbe prendere fosforus quindi perché se uno ha un innato desiderio di cose fredde dovrebbe prendere fosforo 200 CH perché attraverso quel sintomo tu scopri la tua costituzione quindi se uno invece desidera sempre cose calde e abborrisce cose fredde dovrebbe prendere invece licopodium perché tante volte noi dal sintomo arriviamo a capire la complessità dell'individuo quindi vedete che è sempre importante ogni cosa dell'individuo soprattutto se è spiccata è interessante soprattutto se è innata se è spiccata poi se invece uno desidera le patatine fritte perché le ha viste in televisione questo non ha nessun valore ovviamente come alimentazione quali categorie alimenti consigliare in Stato? ma certamente consiglio per esempio l'anguria nella rivista che vi citavo prima il nostro amico il professor Sapuppo il dottor Sapuppo ha fatto un bellissimo articolo sull'anguria che è molto ricca di acqua molto ricca che fa veramente molto molto bene non è può essere indicata anche certamente nei diabetici se non c'è problema e poi naturalmente il consiglio queste bellissime piattone di verdura in cui mettiamo non solo la lattuga e la valeriana ma si possono mettere anche quegli spinacci freschi da e l'avocado certamente che fa bene certamente per mille cose e quindi consiglio queste cose non tanto in questa stagione i legumi che un pochino riscaldano e nello stesso tempo anche metterei del riso integrale certamente che va molto bene però in estate non farei una super alimentazione in estate dove dovremmo approfittare tutti anche per perdere un po' di peso approfittare per mangiare io vi ricordo che i cibi crudi sono certamente molto utili i cibi crudi contengono gli enzimi vi ho detto tante volte quanto sono importanti gli enzimi per la salute cardiocircolatoria puliscono le arterie quindi approfittiamo in estate per non mangiare il brodino ovviamente caldo e per non mangiare il passato di verdura per non mangiare le paste e fagioli d'estate sarebbe assurdo invece approfittiamo per mangiare delle grandi terrine di verdura terrine di queste meravigliose verdure fresche che ci sono d'estate tenendo sempre conto di mangiare sempre le le erbe tipiche della stagione ovviamente andrò a mangiare i broccoletti di Bruxelles d'estate d'estate mangerò questa appunto la valeriana l'insalatina queste cose appunto l'anguria il melone o i o i cetrioli queste cose che sono tipiche dell'estate quello che ci dà la natura in quella stagione è la cosa giusta per il nostro corpo certamente da qualche giorno ho gli acufeni tutto il giorno ecco sì certamente può entrare il caldo però gli acufeni c'entra quasi sempre che sia la pressione alta che la pressione bassa può determinare acufeni per una dermatite irritativa che si accende ogni due o tre giorni cosa si può usare? beh certamente puoi usare queste creme a base di cardiosperla che è una pianta molto utile per le dermatite e poi bisogna capire come mai si accende questa dermatite che molto spesso è dovuta a un problema di tipo alimentare può essere che uno beva per esempio un eccesso di vino certamente dermatite influisce su questo la tirosina può essere assunta per rimanere svegli o il suo uomo potrebbe creare problemi beh certamente la tirosina non è assolutamente utile per rimanere svegli io non è che posso sovvertire la tirosina va assunta al mattino e non va assunta mai alla sera semmai se vuoi rimanere svegli in maniera intelligente dovrei assumere la teanina la teanina ti tiene sveglio attiva i recettori cerebrali però allo stesso tempo quando poi tu vuoi andare a letto dorme quindi ti tiene sveglio ma ti permette che di dormire quindi la tirosina direi che non è indicata e tra l'altro non è nemmeno indicata in questa stagione perché è uno stimolo al tiroideo e la tiroideo non ha bisogno di essere stimolata in questa stagione da dove può derivare una pressione bassa cronica beh può derivare dal fatto che una persona sia per esempio molto giovane che una persona sia di sesso femminile c'è la pressione bassa delle giovani donne e può derivare comunque originariamente da un problema cortico-surenalico solle ghiandole surinali che regolano prevalente la pressione per cui potrebbe esserci una carenza di aldosterone e quindi in questo caso bisognerebbe integrare oltre che con quel che dicevo prima io questo ipotone control che è chiaramente molto buono integrare anche con dei sali minerali eccetera eccetera quindi però ecco l'origine è tu mi chiedevi l'origine caragiusi è la la ghiando surrenale in questa pandemia come disinfetta la verdura ma la verdura non è che il virus sia sulla verdura il virus muore col caldo il virus passa da uomo a uomo non è che il virus ha bisogno di un questo è un virus umano che è partito forse da un pipistrello che forse è andato su un maiale che forse è andato comunque un virus non è un virus della verdura la verdura ha i suoi virus c'è un virus che si chiama il virus del mosaico del tabacco che colpisce le zucchine di pomodori eccetera però è una roba se io mi sfrego una foglia di pomodori con il virus del mosaico il tabacco non lo prendo quindi la verdura non può essere affetta dal virus io la verdura la lavo e poi me la mangio quindi senza questo problema ciao Paola Titti che colazione beh la colazione sai io faccio sempre io mi trovo benissimo con la mia colazione classica che ho detto tante volte no che è la colazione con questo yogurt greco con la banana col kefir con della frutta secca nel mio caso che sono un uomo non giovanissimo metto anche dei semi dei semi di zucca che li trito metto anche magari un po' di polline che sempre per l'uomo fa molto bene e mi mangio questa bellissima buonissima colazione questa mi mi riempie benissimo e quindi dopodiché mi vado a bere un caffettino perché mi piace soprattutto quando sono a Milano perché vado al Santa Bros che è il mio caffè preferito e quindi lì vado proprio perché mi piace andare a bere questo caffè e dopo sono a posto facendo questa colazione io a pranzo ho pochissima fame quindi tante volte salto magari mangio qualcosina ma pochissimo e poi arrivo molto bene molto contento alla sera voi potete naturalmente poi su questo schema diremo ricamarci un pochettino uno può metterci le mandorle quell'altro può metterci invece ci mette il burro di cocco che va benissimo io per esempio ultimamente non lo metto però un altro se vuole avere un ricostituente mette quello ecco poi questa è la base poi naturalmente mangio sempre dei mirtilli vanno benissimo anche naturalmente i lamponi le fragole tra l'altro se voi avete detto la mia ultima rivista ho parlato anche delle sostanze benefiche che ci sono nelle fragole per attivare la memoria e quindi metto anche le fragole ecco e così via i lamponi li metto meno perché i lamponi contengono beh contengono il manganese che fa molto bene durante l'estate ma contengono però anche degli estogeni i lamponi e quindi io che non sono una femminuccia beh sì sono maschietto preferisco in realtà oggi li ho mangiati ma preferisco non eccedere i lamponi caralina carissima si è collegata anche tu da conegliano da dalla marca trevigiana con l'insalata va bene la beh certamente la cicoria va benissimo anche per i gotti l'unica logica che fa male per i gotti sono le piante gozzigene che sono le piante della famiglia della brassicacee che sono le verze e i broccoli fanno male per la tiroide fanno venire i noduli tiroidei quindi vanno ovviamente evitate ingrossamento della ghiandola mammaria post infarto in un uomo con dolore da cosa può dipendere e cosa si può fare ma bisogna vedere perché l'ingrossamento della ghiandola mammaria va dipende in genere da un aumento della della prolattina no normalmente quando uno fa un infarto viene data la cardiospirina e oltre a dare a dare la cardiospirina in ospedale spesso danno il protettore gastrico il protettore gastrico sono i diremmo gli imitori della pompa protonica tende a dare un aumento della prolattina l'aumento della prolattina fa ingrossare la diagnosi cosa fare in questo caso uno sospende la cardiospirina invece la cardiospirina dice prende gli omega 3 e così sospende anche il protettore gastrico così la mammaria non si ingrossa quindi ricordiamoci comunque che bisogna stare molto attenti perché il cancro mammario non c'è solo nella donna ma c'è anche nell'uomo io ho curato vari casi di cancro mammario nel maschio quindi va quando visito il paziente ascolto anche quello ecco quindi non è che il cancro mammario sia prevalentemente nella donna ma c'è anche nell'uomo quindi bisogna stare attenti perché se uno stimola con degli estrogeni anche vegetali per la soia o stimola con dei farmaci la ghiana mammaria può anche lui avere dei problemi al seno quindi il seno non c'è solo la donna ma c'è anche l'uomo ovviamente quando c'è l'anticorpo antitiroperossidasi alterato certamente deve più che cara grazia più che fare degli accettamenti devi fare la cura di gran carriera perché l'anticorpo così alto vuol dire che tu devi assolutamente metterti a dieta senza neanche mezzo milligrammo di glutine devi eliminare il glutine completamente dalla tua tavola perché è il glutine che alza l'anticorpo antitiroperossidasi e il TSH 5.5 sì accettamenti accettamenti vabbè fatti l'ecografia ti ho l'idea ma devi immediatamente intervenire perché devi abbassarlo e quindi puoi correre al mare puoi prendere della tirosina puoi prendere delle alghe puoi prendere il prodotto il fito ipotipontrol una complessa a colazione a cena e delle volte in certi casi dipende dalle tà che hai devi prendere magari una dose piccolina 25 microgrammi di eutiroxio non casca il mondo perché 5.5 è alto come valore quindi bisogna abbassarlo assolutamente potresti non abbassarlo se tu avessi 80 anni e dei problemi cardiologici però non pensi più ai 80 anni quindi devi assolutamente abbassarlo quindi avete visto quante cose interessanti che emergono questa ghianda tiroide è sempre nei nostri pensieri perché l'inverno funziona poco l'estate funziona troppo eccetera eccetera bene avete qualche altra domanda che vi tormenta sull'estate Leandro anche se non c'entra col caldo il led un composito beh sì allora la calma il composito il caloreando non c'è più c'è una volta ma ormai non c'è più e non la producono più oppure potresti procurartela su internet in Germania il led un composito non c'entra niente con le zanzare abbiamo visto prima il led un palustre il led un composito è una medicina a una parte che si fa in iniezione sulle vertebre quando c'è un problema di dolore lombare o sacrale eccetera Rita Bianchi mia allora omonima quando ecco beh il video sulla stanchezza l'ho già fatto e se tu vai sui miei podcast io ho fatto sia un podcast sulle ghiande sui renali che spiego bene cosa fanno le ghiande sui renali sia ho fatto invece un video sulla stanchezza sono uno dei primi che ho fatto quindi puoi andare caralita a vederteli e tante cose le spiego la stanchezza è uno dei sintomi più frequenti dei miei patenti ci sono naturalmente quando io faccio un podcast o un video do sempre anche dei rimedi per questo se gli anticorpi rientrano nei valori normali devo continuare a ritenermi affetto da tiroidite no se gli anticorpi rientrano nei valori normali vuol dire che tu sei guarita perché le malattie anche dalla tiroidite e non vorrai più ricaderci non prendendo più sostanze magari stando attento alla dieta e così via quindi a meno che tu non abbia 60-70 anni e gli anticorpi siano rientrati nella normalità perché hai preso una grande quantità di eutirox e quello ha un po' inibito come la dieta e tiroide allora non è che sei guarita ma sei protetta diremo dalle eutirox Pito non vanno bene per i tiroidi i broccoli no ci ho già detto che i broccoli non vanno bene per i tiroidi tendono a creare i noduli tiroidei sono il gozzo quale vitamina A mi consiglia con il mio tiroide ma la vitamina A che ti consiglio è per esempio quella che è contenuta nel tuorlo d'uovo il tuorlo d'uovo contiene vitamina D e vitamina A in un'armonia bellissima quindi il tuorlo d'uovo ogni mattina un tuorlo d'uovo fa benissimo ed è un apporto di duteina che è un'ottima vitamina A che va benissimo ti consiglio anche volendo la staxantina che è una vitamina A da alghe che anche quella è molto buona per esempio quindi queste sono le vitamine A che ti consiglio Titti è vero che bisogna mangiare più salà e c'è certamente durante questo periodo noi perdiamo sodio perdiamo potassio e quindi è bene prendere degli integratori che abbiano per esempio un po' di sodio un po' di potassio naturalmente se una persona è un iperteso va va preso più potassio e sodio e quindi di iperteso in questo periodo sta meglio però bisogna integrare con del sale una volta pensate che il sale era una sostanza preziosa perché le persone nelle popolazioni antiche siudavano non erano stressate come siamo noi quindi non avevano la pressione alta erano tutte ipotesi e tenavano tutte le ricerche del sale cercavano il sale disperatamente perché il sale li teneva sulla pressione li faceva star bene li aiutava contro la disidratazione eccetera vedete come è cambiato il mondo adesso in questo mondo di oggi noi siamo tutti alla ricerca di cose non salate perché tra l'altro il sale è in tantissimi è stato aggiunto in tantissimi elementi una volta cercava tanto il sale l'equilibrio naturalmente sta nel prendere il sale quando perdiamo liquidi con la sudorazione quando ci disidratiamo e invece non prenderlo quando siamo nel momento del freddo e poi naturalmente con sale dobbiamo stare attenti se siamo se siamo ipertesi e così via uno può anche naturalmente sempre dosare il sodio nel sangue e così via nel caso di una amidoidosi di un anziano di 88 anni in buona salute con ipertesi ecco allora l'amidoidosi è un problema a parte bisogna vedere se la amidoidosi è a livello cerebrale o a livello renale perché naturalmente le cose le cose cambiano diremmo no però gli aminoacidi più indicati saranno quelli che reagiscono più sul cervello quindi andiamo dalla glutamina alla glicina alla tirosina ecco tutti gli aminoacidi fanno molto bene molti fanno molto bene per il cervello quelli che fanno bene in particolare sono la glutamina e la glicina e l'anziano sono indicati quindi questi sono quelli più importanti ovviamente voi allora l'ostopenia al limite dell'osteoporosi come intervenire con preparati naturali allora l'ostopenia bisogna sempre dare del magnesio in questo periodo il magnesio va bene il magnesio aiuta anche l'assorbimento del calcio quindi può essere molto utile e poi ricordiamoci che l'osteoporosi non è dovuta solo alla mancanza di calcio ma è dovuta anche alla mancanza di struttura ossea su cui il calcio si appoggia e quindi è molto importante il rapporto di aminoacidi e di collagene vi ricordo per esempio come aminoacido la prolina è un aminoacido specifico per gli osteoporotici di fatto se tu vuoi capire tante volte l'osteoporosi fai un dosaggio delle urine e cerchi l'idrossiprolina se l'idrossiprolina nelle urine è alta vuol dire che tu stai perdendo matrice ossea allora devi prendere il aminoacido che è la prolina questo è molto importante e poi naturalmente ovviamente il calcio ma un'altra cosa importante dell'osteoporosi è inibire il paratormone quindi per inibire il paratormone bisogna prendere perché se noi abbiamo dei livelli alti di paratormone questo ci mangia l'osso allora tu vai ad usare il paratormone e se c'è il paratormone alto bisogna prendere un tipo particolare di vitamina D che è il rocaltrol quindi però andiamo un po' fuori dal nostro seminato dell'estate rischiamo di andare sempre nel solito argomento che sembra la vitamina D ecco il cavolo certo per la scimotto non fa proprio male però favorisce caramaglie i noduli e quindi non va bene cara Vincenza come stai? intanto che non ci sentivamo che Vincenza da Lecce è lì con un bellissimo caldo però ha anche il mare vicino quindi per resumo che Vincenza stia molto bene pump moon non so che tipo di omega 3 prendere il pesce non sarà contaminato ma l'omega 3 io uso spesso questo omega 3 della soia si chiama neuropesce che è un omega 3 molto concentrato molto buono e poi non ci sono i pezzettini di plastica nell'omega 3 il pesce certamente sto attento a mangiare il pesce del Mediterraneo perché spesso nel pesce del Mediterraneo se mangi uno sgombro del Mediterraneo si è visto che ci sono dei pezzettini di plastica quindi che non si sa ancora se siano dannosi o meno per il corpo quindi questo l'omega 3 bisogna prendere l'omega 3 buono quindi io normalmente prendo questo della soia che è abbastanza garantito sostanzialmente va bene allora stiamo avvicinandosi alla fine penso che avete capito tutto sull'estate cercare di bere di bere molto di bere anche magari aggiungendo dei sali minerali soprattutto potassio e magnesio in certi casi anche un po' di sodio e un po' di calcio potassio e magnesio io ho una lobalgia acutissima da tre giorni sto assumendo artiglio del diavolo benissimo va bene come l'artiglio del diavolo è un anti infiammatorio va bene tieni conto che comunque disturba un pochino lo stomaco quindi sta attenta a prenderlo a stomaco pieno e poi cercare di non prendere nulla che irrita lo stomaco quindi in questo periodo se hai evitare il caffè se devi prendere qualcosa che disturba lo stomaco bene allora direi che siamo arrivati anche oggi a coprire quasi un'ora di bella conversazione tra di noi affrontiamo bene l'estate allora vi ho dato il rimedio per le zanzare per le vene per la stanchezza per la disidratazione e tutto poi non vi do il rimedio per la depressione perché durante l'estate il sole è già un antidepressivo quindi il sole scaccia la depressione che arriva invece in autunno e quindi voi andate al sole camminate al sole venite al sole e vi nutrite di questa bellissima estate in estate potremmo essere un pochino più eccitati e quindi naturalmente l'estate richiede delle volte qualche piccolo calmantino che può essere il biancospino può essere il carcade eccetera e poi richiede anche che ci si sfoghi l'estate che uno corra lungo il mare faccia il bagno mangi l'estate è la stagione più bella che culmina poi nella vendemia quindi l'estate si fa pensare a degli dei come Dionisio ecco quindi voglio dire quindi cerchiamo di vivere anche bene ecco quindi gioiamo gioiamo dell'estate tutta questa natura che è tutta in grande quindi abbandoniamo ogni tristezza e buttiamoci in questa bellissima estate quindi tutti noi bene la Maria saluto tutti pur avendo la mattina le mani hanno tolto il larsic certamente il larsic d'estate non va mai preso mani gonfie le muovi bene al mattino e dopo tutto si avvia vai a farti una bella passeggiata e le mani si quindi vi saluto tutti allora noi ci ritroviamo non vi so dire il giorno esatto però ci ritroveremo ancora io non mi fermo mai quindi adesso penserò sempre un argomento che sia stimolante anche per la prossima volta vi ricordo anche che adesso proprio il 10 di agosto per chi vive vicino a Verona farò una conferenza a Bosto Chiesa Nuova che è una ridente località delle colline veronesi sull'immunità l'immunità è l'argomento su cui sto scrivendo un libro di immunologia e quindi farò una lezione su questo in modo che poi uno si prepara meglio alle paure dell'inverno e invece nel frattempo penserò a quale sarà l'argomento di cui parleremo la prossima volta la prossima settimana poi Francesco vi informerà della giornata diremo naturalmente cara Maria di incontro di Verona cercherò di registrarlo in modo che poi la metteremo a disposizione di tutti e tu non dovrai venire a Bosco Cielo Norde e Salvador che tra l'altro non ti farebbero nemmeno entrare bene vi saluto tutti allora io vado a farmi una passeggiata a Milano questa sera sono a Milano e l'Oriatina tornerò nella mia Verona fate un buon weekend per tutti divertitevi al mare al lago e ai monti e ci vedremo la settimana prossima arrivederci a tutti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti